Furti nelle auto e all'interno delle abitazioni, manca la sicurezza nel territorio comunale di Ardea. In quest'ultimo periodo la situazione è anche peggiorata. Solo pochi giorni fa un pulmo di turisti è stato completamente svaleggiato il mezzo danneggiato proprio nel centro storico. Non mi ricordo se è la domenica o il sabato, era arrivato un gruppo di ragazzi con il pulmo da Londra, un gruppo inglese, per mangiare qualcosa lì alla tavola calda e nel frattempo avevano messo il pulmo a 10-15 metri dal bar, al che sono usciti fuori perché avevano rubato tutte le valigie dal pulmo e questi ragazzetti erano tutti disperati, primo perché non avevano più cambi da mettersi e poi perché nelle valigie c'erano anche i tablet, il computer. In molti non si sentono al sicuro neanche nelle proprie case, in particolar modo di notte. Mancanza di sicurezza in assoluto, i furti sono aumentati anche dentro le abitazioni stesse, infatti io la sera ho anche paura a stare a casa perché entrano pure dentro le abitazioni con le persone dentro. Anche l'associazione Rivalutiamo Marina Diardia lancia l'allarme e denuncia la mancanza di controlli nella zona, in particolare sul lungomare le auto vengono continuamente depredate. Ci sono pochi controlli sia dai carabinieri, dalla polizia locale, sul lungomare degli Ardiatini molto spesso si trovano le macchine con i vetri rotti, addirittura in alcuni casi portano via proprio i pezzi di ricambio, ormai è diventato un business da parte dei ladri che vanno lì a togliere le ruote, addirittura i cofani delle macchine. Noi abbiamo anche chiesto alla tenenza dei carabinieri di via Salvo d'Acquisto di mandare in giro un po' più spesso i carabinieri, anche in borghese, in modo che queste persone possano essere distratte e possano essere poi allontanate, perché è veramente una cosa quotidiana. Una maggiore presenza delle forze dell'ordine potrebbe senza dubbio migliorare la situazione, restituendo così la giusta tranquillità ai cittadini.